La ricostruzione parte da noi, così il vostro motto ci si aspetta comunque una grande partecipazione per risolvere questa problematica. Speriamo di una grande partecipazione e speriamo soprattutto che il tempo regga. Qualora il tempo non dovesse reggere ci sposteremo nella sede di Teramo Nostra, nell'Istituto Milli, in via Fedelle Romani al numero 13. Speriamo appunto che gli sfollati rispondano nel migliore dei modi e speriamo soprattutto che la città si stringa a queste persone che soffrono il problema abitativo. Sarà un'assemblea speriamo ricca di contenuti e soprattutto ricca di risposte della classe politica locale e italiana. L'assemblea si svolgerà a Piazza Martiri alle ore 16.30 così come abbiamo scritto nelle locandine e niente, cerchiamo di ottenere delle risposte. Dopo l'assemblea comunque non vi fermerete? Noi vogliamo appunto continuare fino a quando i cantieri non vedranno luce perché il processo di ricostruzione è fermo al palo e c'è bisogno che la classe politica si svegli e soprattutto che la città si unisca e si stringa attorno a questi sfollati perché se noi restiamo in silenti loro continueranno a rimanere al palo appunto quindi c'è bisogno di una mobilitazione permanente.